Che pezzo... Ma come? Ma come? E che sa tutti ragazzi? Eccoci in un nuovissimo video Io sono Credox ed eccoci qua su Fortnite Nella Season 8 E oggi cosa andremo a fare? Oggi shopperemo il Pass Battaglia Ovviamente come molti di voi sapranno Il Pass Battaglia è stato dato gratuitamente A chi ha completato le missioni Ma siccome sono piccolo come lo schifo Non l'ho fatta E quindi Oggi andremo a shopparlo Acquista Io ho 1250 bucks Il Pass Battaglia costa ben 950 bucks Acquistiamolo subito E cosa comprende questo Pass Battaglia? La possibilità di sbracchi tutte queste skin Che... Cioè io vorrei capire una cosa dalla Epic Games Perché avete messo una balana? Cioè Cioè è bella ma anche brutta nel suo S Cioè è una cosa strana Non so spiegarmi Però nel frattempo è così Acquistiamo Eccolo Upgrade Pass Battaglia potenziato E vai così Che ti dice oggetti? Vabbè la skin Pirata Il Ninja Che per lui mi pare che tipo prende a fuoco Nella... Nel trailer della season 8 Boh non lo so Vabbè Sì 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 E c'è un 2 bucks Oh ci hanno ritato anzi C'è un 2 bucks E poi qua c'è la banana Bananita Una banana al giorno Toglie sempre il medico di torno Reattivo Matura E cambia colore durante la partita Eh figata Ma veramente Certo la fantasia È molta Per partorire una cosa del genere Però Mi piace Dai Dai ci sta Quindi ora che abbiamo shoppato il pass battaglia Abbiamo l'armadietto pieno di cose belle Mettiamoci la skin del Ninja E facciamo la prima partita In questa season 8 di Fortnite Che è Ho visto tipo alcuni screen Ma che è qualcosa di Fantastico ragazzi Veramente fantastico Mi raccomando ragazzi Iscrivetevi al canale E lasciate like Se questi video vi piacciono Su Fortnite La season E soprattutto Se volete Vedermi io che shoppo So che a tutti voi piace Quando la gente shoppa Spende soldi Su questi giochi Ma che Ma l'ho portato Moncloby pre partita Lasciamo stare Buttiamoci subito Nella nuova città Che si chiama Scalini scatenati Certo È un nome che Fa un po' cagare Però Dai ci può stare Perché penso Ma è tipo Piramidi Tempio A seco Come cacchio Si chiama Ovviamente Fortnite Mi carica Le texture Wow Che bello Ma che La gamma È bagatissimo Oh Ok Sei svegliato Il mio computer Ogni tanto Io mi prendo male Non voglio morire Dai No 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 C'è ma dico io Ma C'è un'arma Non si trova Solo munizioni C'è gli altri Già hanno trovato Pompas Carre Lo Peggio schifo Lo peggio bello Si può dire Non lo so E io Le munizioni Io vorrei tanto Spiegare alla Apex Games Che se io ho le munizioni E non ho Le armi Le munizioni Non servono A niente Quindi Datemi Prima l'arma E poi le munizioni Cioè ragazzi Le basi Le basi Cioè io non capisco Perché non mi porta Alla lobby Tra le partite Cioè proprio direttamente Ok Allora Scherzavo Scherzavo A questo punto Direi andare direttamente Dentro il vulcano Perché sapete com'è Non ce ne strafeghiamo Delle alte temperature Della lava Ci buttiamo Proprio dentro Così come se niente fosse Ok Già Cominciamo A parlare Pompa blu E va Ragazzi La prima kill Attenzione No Codardo Sentite Io prendo Le tre cesta Attenzione Lazzardatevi a venire Ok Vi ammazzo male Io vorrei capire Dove sono andate a finire Questi qua Che poi ragazzi Fighissima sta cosa Che uno vola E pare Superman Ragazzi Dai Cioè sembra Superman Zitti zitti Uuuuh Uuuuh 86 Attenzione Attenzione La skill Scherzavo 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 Non lo dico più Non parlo più La skill Non ce l'ho Va bene Però devi stare calmo Siamo partiti bene Ma poi È andata male 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 Ora facciamo l'ultima partita Per vedere l'ultimo posto Che hanno aggiornato Hanno aggiunto Hanno fatto Hanno detto Che è la nave Che praticamente ha preso il posto di passatempi pomposi Che a me sinceramente piaceva Ci andavo pure ben volentieri Però poi l'hanno Lasso al suolo Cioè proprio Non esiste più Andiamo a Laguna Languida Un nome Una garanzia E poi Sta cosa che hanno aggiunto Che ora Quando si mette il segno a posto Cioè Ti dice quanti chilometri Mancano È una cosa bellissima E ho pure notato Cioè Ho notato Ho scoperto Che Se fai il doppio click Tipo Avvisa dove sono i nemici Probabilmente questo quando sei in coppia Se da solo La vedo un Poi inutile Come funziona Comunque devo dire Che questa nuova season Per esempio Si basa sulla foresta Cioè perché raga È tutta foresta Guardate Il vulcano I geyser Foresta Foresta Cioè capisco che Si basa sui pirati Però Fortunatamente si sta assommando L'unisola deserta Poco Riesco a prendere quel pompa Scherzavo Scherzavo Non l'ho preso Non l'ho preso Non l'ho preso Scherzavo Vai Ci mette anche la connessione Un'arma più decente No Oppure una vera arma Perché Con questo ci faccio ben poco Ok Due chest Ok Ci possiamo arrangiare Che è stato sto botto? Credox Meno domande Più azioni No 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 A me lo sta ballando Sì A me lo sta ballando Scusate Io Eh 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 raga Senza armi Eh vabbè Minchia deve pure ricaricare il coso Questo Noo Noo Peccato Peccato Noo No Aspetta Ditemi che muore Eh vabbè Un sotto di vita L'ho recuperata Cioè raga io ho fatto tre cose col Il fucile Col mirino schifoso Vabbè ragazzi a sto punto Abbiamo fatto tre partite Facciamo l'ultima Andiamo a vedere la fortezza A sto punto Hanno fatto tutte e tre schifo Almeno vediamo di fare qualcosa in questo Poi almeno una kill me la sono portata a casa Quindi almeno Proprio 0 0 0 0 No Qualcosina l'abbiamo fatto Comunque io nella lobby per partita Mi sento nella giunga di Tarzan A dire il vero Quartiere di Haller Izencoming Eeeh Attenzione che castello Vediamo se riesco a prendere un'arma E il cazzo No mi sembra un pompa Ragazzi siamo morti Lascio una cesta Ti prego dammi un pompa Un pompa Chiedo un pompa Una pistolina viola Ma un'arma vera Un'arma decente Non me la volete dare? Boh Oh alleluia Un pompa Chiedere il pompo Poi vorrei bianco Quindi Vorrei chissà che l'anche Ma ci accontentiamo Là c'è una jump Che potrebbe salvarci il culo Oh alleluia Alleluia Un assalto Quale è mio Quale è mio Quale è mio Di mezzo è mio Ok ora diciamo Diciamo che ce la possiamo giocare Con assalto e pompa Ora possiamo giocare bene Ora che non ci sta nessuno O meglio Sto castello è talmente grande Che sembra che non ci sia nessuno Eccolo Manco per sbaglio Raga Manco per sbaglio Aspettata Sporgiti Sporgiti dai 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 Noo Ragazzi l'ho lisciato tantissimo L'ho lisciato L'ho lisciato Wow utilissima questa scale Veramente Eccolo eccolo Nooo Adio Cioè il colpo va per i fatti suoi Veramente Io sto monto Vado a prendere quella jump Comunque Bella zona Bel posto La Epic Games Finalmente ha fatto Un lavoro come si dava E io vado a pushare a quello Illusi se lo lascio Ecco mi sono fatto scoprire Ragazzi è entrata quasi una caccia all'uomo Zitti 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 Oh madò Maria Ma da dove? Ma quei scudini magari Ma che? No 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 Scherzavo 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 Raga mi sto Ah no Che è so Non sto capendo niente Ah si stanno ammazzando Mi stanno ammazzando Sì 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 Vai così Ok Sono andato Cacchio Cacchio Fatemi prendere Sta jump Dov'è? Dov'è la jump? Eccola No Dai 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 Via 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 Non è così veloce Cheat Facciamo una cosa E vai Pusho questo Pusho questo Scherzavo Ti lascio stare Ma qua tutti pro gamer Ma fatemi capire Boh C'hanno la mira Boh Manco lei In bot Una chest Necessito della chest Ma che Cacca Meno domande Meno domande Che poi raga Rivedendo scherzato Siamo arrivati Nella top ten Cioè Sono rimasti solo in otto Certo C'è magari stata proprio Movimentata come Come partita Però Dai Il cannone Ora mi pento di aver lasciato Il caccia per questa Stupida pistola di cacca Ah ma che poi è proprio picco polare C'è proprio là Quanto ci muoio Da 1 a 10 11 Ragà ma Ma che cacca Va veloce Ragà ma le hack È troppo veloce No pezzo di cacca Che pezzo Ma come Ma come Ragà questo ha le hack Va troppo veloce Ah raga Sono due le cose O è il ninja camuffato O questo ha le hack E io penso sinceramente Che ha le hack Cioè dai Guardatelo Ma Non è possibile Non è possibile Che bello fortnite Mi mancavano Quelli che chiacchieravano Se a caso Che poi sono più polabili in America Qui in Europa Però Comunque ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Se non siete ancora iscritti A un paio di questo video Vi lasciate un like Un commento Non basta mai Noi ci vediamo Un prossimo video E Ciao A tutti A presto A presto A presto